Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La geffina Antonella Fiordalisi sembra non stare simpatica a tutti nella casa del GF VIP. Non appena è entrata nella casa ha iniziato a stuzzicare Luca, per scuotere in lui una reazione e arrivare a qualche clip. Dopo Luca, il conflitto è continuato con Antonino Spinalbese. Non sarebbero i soli ad aver capito che Antonella ha un caratterino forte e particolare da renderla una pericolosa nemica all'interno della casa. Nel suo stare in disparte sembra in realtà adottare una strategia, senza essere troppo appariscente. A mandare una frecciatina su questo caratterino velenoso è stato Antonino Spinalbese. Il ragazzo si è accorto che Antonella parla alle spalle e mentre si trovava in sala trucco gliel'ha fatto notare con una battuta un po' sopra le righe. Ti faccio un bel taglio, propone Antonino Spinalbese ad Antonella mentre lei era in fase trucco e restyling. Alla lingua, continua la frase dopo un pausa. Nonostante sia stata una scenetta simpatica, in realtà il messaggio di Spinalbese è arrivato dritto e chiaro. Il modo di fare di Antonella è scontroso e snob. Se non vuole farsi tutti i nemici dovrà cambiare strategia, oppure sta seguendo quella di Soleil Sorge. Grazie. Grazie.